Voci all'esperto, un programma realizzato in collaborazione con Gioielleria Consumi a Ponte a Poppi Grazie a tutti Cari amici telespettatori mi compete l'obbligo di darvi il benvenuto ma anche il bentornato all'interno degli studi televisivi del canale 190 del digitale terrestre per me è un piacere un vero onore specialmente dopo il periodo molto particolare che mi ha visto mio malgrado protagonista tornare a dare voce all'esperto la nostra rubrica di approfondimento settimanale che settimana dopo settimana si prefigge come obiettivo quello di dare per l'appunto come il titolo dice voce all'esperto ai vari esperti che ogni appuntamento si alterneranno per cercare di dare risposte chiare, immediate, concise, semplici, esaurienti alle tantissime domande sugli argomenti più disparati e quindi grazie a tutti voi che ci seguite copiosamente da casa grazie a tutti voi che non mi avete anche durante questo periodo di assenza dal piccolo schermo fatto mancare il vostro affetto e una persona in particolare vorrei ringraziare perché ce l'ho ospite ed è per me un onore e un piacere fargli aprire questa edizione di voce all'esperto perché in un periodo particolare il dottor Simone Collura medico chirurgo degli ispedali civili di Brescia c'era, è stato al mio fianco seppur distante quindi ci tengo a ringraziarlo in apertura di puntata e soprattutto ci tengo a dargli nuovamente il benvenuto in questa rubrica di approfondimento settimanale quindi dottor Collura io la ringrazio nuovamente per tutti i messaggi, tutto l'affetto, tutto il calore e soprattutto tutti i consigli personali che ha dato a me durante un periodo particolare e le do nuovamente il bentornato nei nostri studi, grazie di essere con noi anche per questo primo appuntamento di questa nuova rubrica. Io ringrazio voi per l'invito e un caro saluto a tutti voi e ai vostri telespettatori. Grazie, grazie mille e niente, iniziamo a bomba, l'ho elogiata in maniera particolare perché lei sa i motivi per cui ho deciso di iniziare questo momento diciamo di ringraziamento nei suoi confronti, ringraziarla anche per lo speciale che abbiamo realizzato sul Covid-19 lo scorso 21 febbraio e quindi visto che nel precedente incontro che noi abbiamo fatto c'è stato diciamo un lungo excursus di tutto ciò che è stato questo periodo molto particolare direi di concentrarci prevalentemente, se lei è d'accordo, su un argomento molto di attualità che sono i vaccini e iniziare a porle immediatamente la domanda quante sono le tipologie di vaccini che in questo momento molto particolare, in questo momento storico così particolare oserei dire pandemico, esistono in questo momento? Allora esistono diversi vaccini per il Covid e si inseriscono nell'ambito di tipologie di vaccini che già esistono parzialmente, altri invece non ancora nella pratica clinica per altri agenti sia virali che batterici essenzialmente, storicamente nel passato, utilizzavano soprattutto batteri e virus interi o parti di esso, inizialmente interi, inattivati o attenuati la differenza è sostanzialmente che la gente attenuato può in realtà dare una forma di piccola infezione più lieve che non crea una vera infezione ma determina l'immunità in soggetti che non hanno problemi di deficit immunitari, sono controindicati nei pazienti che invece hanno dei deficit immunitari questo fa sì che in realtà questo è limitato solo ad alcuni agenti parliamo di morbillo, rosolia, varicella, farotite sostanzialmente però tolto questi vaccini tutti gli altri sono su agenti virali o batterici inattivati o parti di esso per i vaccini più interni in particolare i vaccini per il covid contengono o parti di esso o più spesso invece sfruttano tecnologie ancora più nuove che permettono di riprodurre gli agenti o parte diciamo del virus covid all'interno dell'organismo umano, quelli che attualmente abbiamo in commercio in uso o che verranno in uso nel giro di qualche mese almeno potenzialmente e sono sostanzialmente tipo Pfizer, Moderna e anche il Curavax che è in preparazione sono sostanzialmente legati all'RNA cioè il messaggio genetico del covid che viene introdotto tramite solitamente delle particelle all'interno del corpo umano questo corpo umano, le cellule umane cominciano a produrre queste spike e poi fanno la reazione immunitaria viceversa esiste il Novavax recente che invece è sostanzialmente a particelle proteiche ovvero vengono prodotte le particelle proteiche su cellule di insetto e vengono introdotte nel corpo umano per fare una reazione immunitaria questo tipo di meccanismo è simile a quello di alcune vaccinazioni obbligatorie che avete poco fa mostrato e in particolare ad alcuni vaccini che sono attualmente in uso voi tenete presente quello per il tetano, la difterite e quello per la pertosse prendono diciamo punto da parti dell'agente che vengono introdotte nel corpo umano per fare la reazione immunitaria che sono chiave per la reazione immunitaria mentre per esempio quello per l'emofilo che è anche un agente per meningite viene introdotta sostanzialmente nel corpo umano una parte di polisaccaride che è praticamente una specie di, nella famiglia dei carboidrati sostanzialmente e su questa si sviluppa la reazione immunitaria per cui ci sono alcuni meccanici, per esempio anche quelli per l'antimeningococco hanno dei meccanismi simili sempre su parti dell'agente etiologico quindi si tratta in questo caso quella del Novavax che dovrebbe essere introdotto nel giro di qualche mese di una tecnologia ben consolidata e addirittura di un vaccino che con una sola dose dovrebbe funzionare il vaccino Johnson & Johnson invece che anche esso dovrebbe essere introdotto a breve è con un meccanismo simile a quello dell'AstraZeneca ma in realtà la differenza sta sul vettore ovvero sono tutti vaccini a vettore vengono utilizzati sia nell'AstraZeneca che nello Sputnik che nel Johnson & Johnson un adenovirus inattivato completamente che porta appunto quel messaggio genetico per far produrre all'interno del corpo umano la proteina spike la differenza è nel tipo di adenovirus nel senso che l'AstraZeneca usa un adenovirus dello scimpanzé mentre il Johnson & Johnson utilizza un adenovirus di tipo umano e sembrerebbe non dare gli stessi effetti che sono stati attribuiti recentemente all'AstraZeneca lo Sputnik diversamente utilizza altri due tipi sempre di adenovirus non umani e però con due dosi fatte ciascuno con un adenovirus diverso in modo tale da non creare reazione immunitaria contro l'adenovirus quello del virus a vettore è una tecnologia già utilizzata quella un po' più nuova è quella come dicevamo del Pfizer e Moderna che è un po' di nicchia rispetto ai vaccini del passato però in laboratorio e in fase sperimentale sono stati condotti numerosi studi già da parecchi anni per cui la sicurezza è data sostanzialmente da questo fatto Certo, certo, assolutamente Senta, una curiosità prima di continuare a porle alcune delle numerosissime domande sui vaccini che in questo momento forse sono l'argomento cardine di questa pandemia da Covid-19 Ci sono delle differenze per quanto riguarda le tempistiche di sviluppo e soprattutto se diciamo da cosa dipendono le varie tempistiche di sviluppo perché un vaccino viene realizzato prima di un altro piuttosto che più lentamente ecco non immagino si tratti soltanto di ore di lavoro di quanto i nostri scienziati passino le giornate a cercare soluzioni a potenziali virus e per l'appunto in particolare quello del Covid-19 Come mai ci sono queste differenze? Il vaccino italiano ad esempio arriverà molto tardi rispetto ad altri Ecco, quali sono queste differenze? Perché ci sono così dei lassi di tempo così differenti tra una tipologia di vaccino e l'altra? Ci sono da fare due questioni sostanzialmente a parlare di due aspetti Essenzialmente ci sono delle tecnologie che sono di più facile sviluppo e altre di meno facile sviluppo nel senso che per esempio anche dei vaccini con virus Covid attenuato però questi richiedono dei tempi di sviluppo superiori per verificare appunto che non devono effettivamente l'infezione Esistono altre tecnologie che invece sono più facili da creare se già ci sono degli studi a riguardo ovvero le tecniche con l'RNA messaggero che sono alla base del Pfizer, del Moderna e sostanzialmente del Curavax che dovrebbe venire pronto a breve sono sostanzialmente tecnologie già studiate e più facilmente riproducibili una volta che il meccanismo di produzione generale di un tipo di vaccino così è già stato ben stabilito Esiste poi un altro aspetto ovvero che già la Pfizer mentre procedeva l'autorizzazione aveva cominciato a produrlo per cui ha giocato per esempio l'anticipo e poi è da sottolineare come i primi vaccini sia stata data ai primi vaccini è un'autorizzazione dalla parte dell'Unione Europea condizionata ovvero non è un'autorizzazione in emergenza altri paesi hanno dato l'autorizzazione in emergenza l'autorizzazione in emergenza che è stata data da altri paesi sostanzialmente fa saltare in realtà parte della fase sperimentale l'autorizzazione condizionata invece prosegue attraverso le fasi sperimentali così come un procedimento normale per cui non è stata saltata nessuna fase sperimentale però le tempistiche sono più brevi perché il processo di qualità e efficacia viene valutato passo passo mentre solitamente con un'autorizzazione normale viene valutato solo alla fine per cui questo è velocizzato da un punto di vista burocratico l'unica cosa che sostanzialmente rimane un pochino un po' nascosta diciamo procedendo attremesso un'autorizzazione condizionata è il fatto che se ci sono degli effetti collaterali rarissimi con una frequenza bassissima come potrebbe essere per esempio la trombosi per l'AstraZeneca questi possono in un periodo più breve numeri comunque piccoli perché comunque anche una sperimentazione normale avviene su numeri relativamente piccoli non emergere in una sperimentazione normale abbiamo tempi più lunghi per cui è più probabile che anche un effetto collaterale meno frequente possa emergere ma chiaramente non è detto che emerga per cui l'unica cosa negativa dell'autorizzazione condizionata è questa però il vantaggio ed è chiaramente una cosa che è utile in una situazione pandemica in cui c'è bisogno di vaccinare per ridurre la circolazione del virus e ridurre la formazione delle varianti questi aspetti rendono diciamo giustificata l'autorizzazione condizionata che come abbiamo detto non riduce la sicurezza della sperimentazione e l'unico aspetto negativo è proprio quello che emerge per l'AstraZeneca degli effetti collaterali rarissimi che possono chiaramente in un breve periodo non emergere certo certo assolutamente senza fare alcuna polemica non è questa la trasmissione più adatta per polemizzare noi cerchiamo semplicemente di approfondire alcuni argomenti alcuni aspetti visto che si è fatto un gran parlare negli ultimi tempi del vaccino AstraZeneca che più volte lei ha citato anche durante questa nostra chiacchierata in questa puntata ecco ci sono state delle procedure come diceva lei velocizzate dal punto di vista sia della sperimentazione sia dell'approvazione poi c'è stato un momento molto particolare in cui non era stato per qualche giorno diciamo appunto per i casi legati a quelli che lei ricordava legati a trombosi o ad altre patologie per un periodo è stato diciamo tolto se così mi smentirà se sto utilizzando terminologie inappropriate però è stato completamente rimosso per qualche giorno dal mercato sono stati bloccati dei lotti uno o più lotti e allo stesso tempo poi dopo qualche giorno l'EMA ha dichiarato completamente sicuro il vaccino il vaccino AstraZeneca ecco c'è un un chiarimento vogliamo dare un chiarimento anche su questo aspetto il motivo per cui il motivo per cui è stato bloccato lo possiamo chiaramente capire per una questione di salute pubblica ma il motivo appunto per per cui sia stato dichiarato diciamo completamente slegato dai casi di trombosi che si sono venuti a creare e dichiarato un vaccino sicuro non so sono stato un po' articolato nella domanda ma forse credo che mi abbia capito il fatto che un vaccino venga ritirato anche solo momentaneamente non è detto che avvenga perché il vaccino non è sicuro non è efficace ma vengono fatte delle opportune verifiche ovvero esistono dei criteri per cui se c'è un un tipo di evento che non era stato preso o una serie di eventi che potenzialmente possono essere correlati o eventi anche di decessi in pazienti senza apparente correlazione soprattutto chiaramente in trattamenti di tipo nuovo tutte queste evenienze vanno verificate vanno verificate perché è giusto per la salute pubblica e chiaramente soprattutto per trattamenti che possono essere vaccini ma non solo anche farmaci di tipo nuovo possono sfuggire perché chiaramente non sono collaudati su una serie lunghissima di pazienti per cui siamo sicuri che quell'effetto quel sintomo dichiarato quell'effetto potenzialmente collaterale piuttosto che il decesso sia correlato appunto al trattamento ci sono dei casi passato di ritiro di vaccini facciamo degli esempi nel 2006 c'era stato un vaccino introdotto per il morbillo parotite rosolia che dava un numero di reazioni allergiche leggermente superiore a quello dei vaccini già in uso in quel caso si decise di ritirarlo definitivamente nonostante il numero di reazioni allergiche fosse leggermente superiore ma esistevano già due tipi di vaccini che con la stessa efficacia garantivano un numero di reazioni allergiche inferiore per cui in abbondanza di altri vaccini non era chiaramente etico dare un vaccino che anche pur con una percentuale infinitesima più alta poteva dare retiro viceversa nel 2014 qualcuno si ricorderà del retiro di alcuni lotti di vaccino antinfluenzale perché vi erano stati tra i decessi sospetti in realtà i decessi poi non furono correlati e questi lotti del vaccino furono completamente considerati non responsabili di questo effetto qui vedete tra i vari vaccini obligatori alcuni li abbiamo già citati la copertura vaccinale questa è una delle cose più importanti nel senso che come vedete per alcune patologie dove abbiamo una copertura vaccinale molto alta appunto abbiamo citato prima morbillo parotite rosolia anche se non è ottimale perché l'ideale sarebbe stare sopra il 90% quello che consigliano gli esperti di vaccini possiamo giustificare il fatto che un vaccino che abbiamo a disposizione possiamo anche ritirarlo viceversa in una condizione in cui per esempio col covid siamo ancora all'inizio della vaccinazione alcuni vaccini arriveranno con calme non abbiamo ampia disponibilità anche se un vaccino dà rispetto ad un altro potenzialmente una percentuale anche minima che non è stata ancora provata di effetto collaterale superiore agli altri non ha senso ritirarlo se noi vivessimo chiaramente in una condizione in cui abbiamo abbondanza di vaccini anti covid e quello non so l'astrazeneca che sembra potenzialmente correlabile alla trombosi sta dando qualche caso in più che è da verificare in quel caso in una condizione così sarebbe lecito ritirarlo completamente ma in una condizione in cui i vantaggi super annettamente i rischi perché per la disponibilità di vaccini e per la veramente bassissima incidenza eventuale con cui l'astrazeneca dà la trombosi chiaramente non è giustificato il ritiro definitivo almeno per le condizioni attuali l'altro discorso se vogliamo vogliamo dire anche della trombosi e dell'eventuale meccanismo con il quale l'astrazeneca può dare trombosi sembra che agisca con un meccanismo simile a quello delle pari le pari quella che viene fatta come puntura sotto cute per gli interventi chirurgici negli esiti di fratture in cui la mobilità è ridotta sostanzialmente crea un meccanismo con il quale producendo degli anticorpi degli autoticorpi cioè anticorpi diretti una reazione immunitaria diretta contro le cellule del corpo umano sostanzialmente si verifica una riduzione del numero di piastrine per cui talò in alcuni distretti si verificano dei sanguinamenti in altri la trombosi infatti nei casi che sono stati registrati ci sono stati pazienti che avevano trombosi per esempio della orta o di vasi tra gli organi addominali e invece avevano oragia cerebrale in realtà questo effetto probabilmente adesso andrà ancora verificato ma in effetti rispetto a questo quanto è stato detto inizialmente una correlazione esiste però parliamo di un numero di casi veramente ridotto ovvero 30 casi di trombosi sospetta su circa 18 milioni di vaccinazioni con 7 casi di decessi per complicante chiaramente si tratta di eventi spavorevoli che un vaccino si spera mai via però ogni trattamento medico e così anche il vaccino ha degli effetti collaterali e potenzialmente anche quello del decesso e calcoliamo che parlando di questi valori sostanzialmente vuol dire che abbiamo avuto circa un decesso ogni 2 milioni e mezzo di dosi effettuate e circa o 2 casi di sospetta trombosi ogni milione di dosi fatte quindi parliamo comunque di effetti piccolissimi è giusto dire che chiaramente in condizioni di abbondanza di altri vaccini in condizioni non di pandemia in condizioni in cui il virus probabilmente circola poco sarebbe lecito dire do altri vaccini se li ho a disposizione o sospendo momentaneamente le vaccinazioni perché se io ho una situazione in cui questo virus non circola e posso a breve avere dei vaccini importanti utili a questo fine allora può essere lecita una scelta del genere ma in una situazione di pandemia dove il covid ha un'alta circolazione e un'alta capacità di mutare e dove le armi a disposizione sono relativamente poche perché non solo scarseggiano i vaccini in generale ma scarseggiano anche le possibilità terapeutiche perché come sappiamo la terapia del covid una volta che uno ha la polmonite da covid è comunque ancora in fase di definizione ci sono delle terapie che sembrano abbiano beneficio ma di volta in volta ci sono degli aggiornamenti e comunque sono terapie che supportano il paziente ci sono delle polmonite che purtroppo vanno chiaramente oltre a questo tipo di terapia di supporto in una situazione in un contesto del genere anche un vaccino che con una percentuale chiaramente piccolissima può dare eventualmente trombosi può essere giustificato comunque nell'uso comune assolutamente e legato a questo discorso che ha appena detto prima di passare alla novità di questa edizione ovvero sia le domande che i nostri telespettatori ci pongono attraverso le nostre pagine web attraverso i nostri contatti social e quant'altro vorrei forse farle la domanda delle domande quella che probabilmente tutti ci siamo posti almeno una volta se sia più sicuro o più rischioso vaccinarsi oppure contrarre un'infezione da covid-19 in sostanza va tutto contestualizzato ovvero in una situazione di pandemia in cui praticamente abbiamo un'alta probabilità di contrarre il covid soprattutto per le persone che hanno chiaramente un numero di contatti elevato i rischi di prendere l'infezione e i rischi degli effetti che un'infezione di questo tipo può dare sono nettamente sui rischi al rischio di vaccinarsi per cui il vaccino è giustificato se noi avessimo una zona diciamo una persona che vive in una zona dove il virus ha una bassissima circolazione diciamo una zona bianca e questo paziente ha pochissimi contatti e quando ha pochi contatti magari usa tutti i dispositivi in modo più che adeguato potrebbe valutare chiaramente questa è una scelta personale condivisibile di aspettare non vaccinarsi e aspettare magari i tempi in cui magari ha visto come i vaccini già collaudati magari hanno già degli anni dietro di utilizzo per cui è emerso tutto il bene e il male di questi vaccini ma chiaramente in una situazione come nella maggior parte d'Italia dove il virus è molto diffuso e circola velocemente e dove comunque abbiamo anche un numero di contatti medici chiaramente fare il vaccino conviene rispetto a non fare il vaccino e a contrarre invece magari l'infezione teniamo presente che ogni trattamento come dicevamo prima ma ha degli effetti collaterali potenziali spesso noi accettiamo già adesso dei trattamenti che in realtà hanno degli effetti collaterali potremmo fare un esempio banale l'aspirina l'aspirina spesso noi la prendiamo anche così come alcuni la prendono addirittura ancora come antinfiammatorio però la prendono un pochino a cuore leggero o viene data dall'unica solo a scopo preventivo per chi ha problematiche cardiovascolari sia di tipo cerebro vascolare eppure l'aspirina ogni anno fa circa 3000 morti per sanguinamento del tratto digestivo è un effetto collaterale chiaramente perché come sappiamo crea una situazione per cui soprattutto nello stomaco si possono creare dei sanguinamenti i pazienti se hanno sanguinamenti importanti possono poi morire anche di quello però tutti accettano di prendere l'aspirina nessuno lo contesta e così per tanti altri trattamenti anche trattamenti chirurgici potremmo fare un esempio banale l'intervento per la carotide il carotide è il vaso principale che va al cervello questo vaso sanguigno può chiudersi e quando arriva a un 70% di chiusura si decide solitamente di operarlo per prevenire l'ictus questo si fa però in un caso su un milione in taluni c'entra anche di più ma in Italia siamo su questa percentuale questo intervento può causare l'ictus per cui vuol dire che in tutti i pazienti tranne questo uno su un milione quindi parliamo di 999.999 pazienti l'intervento ha un beneficio in questo uno qua sarebbe stato meglio non fare l'intervento perché probabilmente l'ictus l'avrebbe avuto dopo per cui avrebbe vissuto dei mesi meglio sicuramente mesi o magari anche qualche anno però tutti accettano questo rischio noi abbiamo detto appunto che il rischio di trombosi da AstraZeneca è abbiamo avuto 30 casi su 18 milioni quindi vuol dire praticamente meno di due casi ogni milione perché è un rischio appena superiore a quello di un intervento della carotide di avere un ictus questo per fare dei paragoni questo per far capire che quando si fa un trattamento vaccino chirurgico o medico abbiamo fatto l'esempio dell'aspirina c'è comunque un rischio chiaramente il tutto va messo su una bilancia tra i vantaggi e i rischi se i rischi superano i vantaggi chiaramente uno può tentarla però chiaramente sa che va a correre certi rischi se il rischio è comunque minimo uno accetta quel rischio però sa che se va bene come nella maggior parte nella stragrande maggioranza dei casi sostanzialmente ha un beneficio elevato assolutamente assolutamente senta per distogliere un attimo l'attenzione dall'argomento covid che giustamente e in qualche maniera è correlato anche alla sua professione di chirurgo per l'appunto volevo distogliere un attimo l'attenzione da questo argomento ma neanche poi più di tanto ponendole la domanda del nostro telespettatore Carlo che ci chiede quali siano state le ricadute dell'attività chirurgica durante la pandemia e come sono state affrontate le altre malattie gli altri interventi urgenti o di minor urgenza e di minor importanza durante questo periodo in cui l'accesso agli ospedali è limitatissimo o comunque consentito solo a pazienti con patologie che vadano dal medio al grave ecco chiaramente come su tutto il resto ha avuto delle influenze notevoli soprattutto durante la prima ondata va differenziato un po' la prima ondata da questa terza ondata nel senso che la prima ondata è stata una vera condizione di emergenza e per quasi un mese è stato proprio fermo tutto e la ripresa è stata poi graduale in alcuni centri molto veloce fino a una pressoché quasi normalità nell'arco dei due mesi totali in altri centri chiaramente ci sono voluti anche un semestre o di più per tornare ad una normalità nelle liste d'attesa operatorie nella gestione delle attività ordinarie e nella gestione anche degli ambulatori perché poi dopo anche l'attività ambulatoriale è molto importante per seguire i pazienti cronici e anche per reclutare i pazienti per l'intervento chirurgico e per seguire gli stessi che sono stati operati pensiamo per esempio agli oncologici e vasculopati importanti durante la terza andata è stato un po' diverso però comunque un influsso e un rallentamento c'è stato è stata garantita comunque ovunque l'attività in urgenza per cui se parliamo anche del banale intervento di appendicite da dove l'appendicite c'era veniva operata sostanzialmente con gli stessi cambi dall'altro lato abbiamo interventi invece ordinari parliamo però dei non oncologici perché gli oncologici comunque sono stati costati interventi non dilazionabili per cui sono stati eseguiti sostanzialmente con i tempi normali parliamo non so delle ernie inguinali delle cille di altri interventi anche interventi ortopedici minori questi chiaramente ha subito un rallentamento perché alcuni ospedali sono stati trasformati in ospedali covid altri hanno stati convertiti in ampia parte per cui venivano garantiti solo interventi più urgenti oncologici e gli altri sono slittati del tempo della durata dell'emergenza un mese due mesi per cui hanno risentito certo che per alcuni interventi che erano già in lista d'attesa prima della prima ondata e che vanno chiaramente a mesi o anni chiaramente sommando gli effetti della prima ondata e soprattutto questi della terza e parzialmente qualcosa della seconda ci sono interventi che alla fine probabilmente avranno quasi un anno in più di attesa interventi per cui non c'è a rischio la vita non ci sono grossi rischi però chiaramente per il paziente singolarmente preso la qualità di vita può cambiare l'altro aspetto che si può pensare di sottolineare come ricaduto nell'attività chirurgica è il fatto che adesso tutti i pazienti che vengono ricoverati fanno il tampone per cui anche per l'attività urgente se un paziente arriva in pronto soccorso deve a un appendicite una colecistica una frattura di femore deve essere operato prima di avere un tampone negativo prima di essere ricoverato e operato salvo che non sia un'urgenza che in realtà un'emergenza indilazionabile allora viene operato con le accurate precauzioni considerandolo come potenzialmente positivo ma negli altri casi è un tempo di attesa della riflettione del tampone che da sede può essere più o meno assolutamente assolutamente grazie di aver risposto alla domanda del nostro telespettatore è stato chiaro semplice ed esauriente come sono i tre aggettivi che noi in questa edizione di Voce all'Esperto cerchiamo di dare cerchiamo di riassumere questa nostra rubrica con questi tre aggettivi perché è questo ciò di cui le persone che ci guardano da casa hanno bisogno senta vorrei iniziare velocemente a concludere messaggi di speranza messaggi ottimisti non vorrei dire l'altra parola esistono delle varianti so che l'argomento magari potrebbe non essere troppo ottimista ma siccome esistono delle varianti ultima tra le quali la variante giapponese potrebbero non rispondere ad alcune tipologie di vaccini quelle di cui abbiamo parlato in questo appuntamento il primo appuntamento con Voce all'Esperto e soprattutto arriverà in un futuro prossimo anche un vaccino italiano che permetta di in qualche maniera non essere più gli ultimi della fila allora il vaccino italiano sembra in arrivo nell'arco di qualche mese chiaramente bisognerà vederlo all'opera e bisogna essere sicuri che al termine di tutta la fase sperimentale sia effettivamente efficace senza particolari effetti collaterali le armi a disposizione con l'arrivo probabilmente di Johnson & Johnson saranno adeguate nel senso che probabilmente disporremo nel giro di qualche mese di un numero di vaccini adeguato per la popolazione il punto chiave sarà programmare la campagna vaccinale in modo adeguato nel senso che attualmente è abbastanza adeguata migliorabile sicuramente l'obiettivo dovrebbe essere arrivare all'autunno prossimo dove c'è un rischio di quarta ondata obiettivamente il rischio c'è con una vaccinazione un numero di vaccinati superiore al 70% se si arriva con una percentuale tale noi arriveremo in una condizione in cui circolerà poco il covid anche se qualcosa in più per motivi stagionali per il fatto che comunque è fisiologico che circoli un pochino di più verso ottobre novembre noi arriviamo in una condizione in cui avremo una bassa probabilità di circolazione quindi di conseguenza con una bassa probabilità di nuove varianti e quindi di una necessità di variare i vaccini certo che se non arriviamo all'ottunno con una percentuale tale rischiamo una quarta ondata chiaramente non come la prima e la terza però potrebbe essere discretamente significativa quindi è chiave in questo momento vaccini probabilmente ce li avremo organizzare bene la campagna vaccinale e arrivare a questa percentuale per ottobre assolutamente assolutamente non vogliamo neanche nominare la quarta ondata speriamo che non ci sia concludiamo con messaggi per l'appunto di speranza messaggi ottimisti per far sì che quanto prima chi ha diciamo in mano la nostra situazione attuale possa darci tutte le armi per contrastare la diffusione per l'appunto del covid diciannove e come sempre io la ringrazio perché come al solito è stato chiaro esauriente soprattutto è stato estremamente disponibile nei nostri confronti nei miei confronti e nei confronti della nostra rubrica di approfondimento che da questa settimana tornerà tornerà scusate a farvi compagnia a cadenza settimanale con questa nuova meravigliosa esperienza e soprattutto un titolo che potete vedere qui di fianco a me nel nostro meraviglioso e nuovo nuovissimo studio e quindi grazie dottor Collura per essere sempre preciso puntuale e soprattutto estremamente competente nel suo lavoro quindi un plauso a lei al suo lavoro e a tutte le sue innumerevoli conoscenze perché durante questo momento un po' particolare lei ha dato sicuramente la voce all'esperto ma non soltanto è stata si è fatto portavoce di tanti messaggi di tante domande che in questo momento sono forse le più prepotenti nella nostra mente io ringrazio voi per la gentilezza per l'invito e auguro il meglio a questa trasmissione e alla vostra rete veramente il meglio possibile per tutti la ringraziamo è sempre il benvenuto lo sa quando vuole le porte sono aperte grazie mille grazie ancora e a presto e noi concludiamo questo primo appuntamento con voce all'esperto come dicevo appunto in chiusura con il dottor collura dandovi l'appuntamento alla prossima settimana grazie a tutte le persone che ci hanno seguito che hanno avuto l'ardire il coraggio di seguirmi fino a questo momento e un buon proseguimento con le nostre trasmissioni grazie a tutti di voi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.